Un'offerta che si arricchisce di giorno in giorno, il programma per l'estate è molto ampio. Benvenga per queste iniziative, praticamente Diano Marina ha bisogno di tutto, oltre a tante manifestazioni che noi facciamo, ma anche questa serie di eventi culturali che per il turismo sono tutta a mano. Assessore Messico, nel panorama degli eventi estivi un appuntamento culturale ormai nella tradizione, due parole in riva al mare. Sì, proponiamo anche quest'anno questa rassegna estiva che va a incorniciare l'offerta culturale dell'estate. Il Comune di Diano Marina, lo sapete, è molto propenso a ospitare e sostenere iniziative di questo tipo che vanno a creare, oltre alla cornice di divertimento che la nostra città offre con le sue manifestazioni, anche un panorama letterario e culturale di rilievo, dirai. Assessore Luca Spandre, un'offerta turistica diversificata per Diano Marina che spazia in diversi settori, cultura compresa. Sì, due parole in riva al mare, va ad affiancare altre manifestazioni culturali che proponiamo per l'intrattenimento dei nostri clienti e va ad affiancare anche le altre manifestazioni a livello musicale e di intrattenimento puro. Quindi un tassello in più riproposto quest'anno dopo il successo della scorsa edizione. La libraia Nadia Schiavini non ha bisogno di presentazioni, un classico, due parole in riva al mare. Allora scopriamo gli autori le date di quest'anno. Allora, per questa dodicesima edizione dell'estate 2023 avremo dei grandissimi autori che verranno a Diano Marina in una nuovissima location per noi che è il molo delle tartarughe. Quindi due parole in riva al mare torna proprio sul mare. Il primo evento sarà il 2 luglio con Antonio Manzini, il nostro autore di Rocco Schiavone, che torna per presentare il nuovissimo romanzo Help di Sellerio. Il 3 luglio faremo un trekking letterario filosofico con Matteo Saudino, parlando quindi nell'entroterra Ligure del Dianese e andremo a scoprire come è la felicità secondo i vari filosofi. Poi il 19 luglio Stefano Nazzi, famoso per il suo Il Post, verrà a presentare Il volto del male di Mondadori. Il 26 luglio verrà Sandra Bonzi a presentare Il mio nome e Due di Picche. Il 2 agosto Mia Canestrini ci accompagnerà per un altro trekking letterario presentando Nelle terre dei lupi. Il 9 agosto verrà Matteo Bussola a presentare il suo nuovissimo romanzo che non è ancora uscito, Un buon posto in cui fermarsi per Einaudi. E chiudiamo con il mitico Fabio Genovesi il 16 agosto che presenterà il suo nuovo romanzo Oro puro per Mondadori. Quindi tantissimi autori in questa estate a Diano Marina.